fammi sentire come muovi la mano sinistra e vai gli ultimi due secondi gli ultimi due secondi che poi andiamo vai soprattutto la sinistra ti voglio vedere bravo Sergio bravo Sergio bravissimo vai vai oh sei perfetto proprio vai molto bene bravo Sergio bravo ok se ti voglio continuare perché ci battiamo giù possiamo se non giudiamo Sergio non siamo che dici? ciao ciao ciao